Questo può sembrarvi un bar, perché sono le tazzine, ma attenzione diventa un auditorium musicale, perché c'è un clamoroso batterista che suona con i cucchiai, sui piattini, sulle forchette, sul bancone, come ti chiami? Gianni! Lui si chiama Gianni e suona con i cucchiai, lo fa nel suo bar, che bella vita fai! Allora... Lo fai spesso? Sì! Sì? Per il tuo che mancia in più! No, per i divertimenti! Niente, mancia a zero! Mi fai un bocchi! Complimenti, applauso, applauso, applauso! Ciao, voi ti chiami? Gianni, complimenti, davanti è bravo, ma solo la batteria? Sì. Quindi è questa passione che poi coltivo... E la, diciamo, la... L'alterna? Sì, lei è il medesimo in queste cose, in 15 metri, in queste strutture rudimentali che ho. E quindi sono il bancone con i cucchiai? Sì. Se avessi fatto il ciabattino avresti suonato le scarpe, gli stivali e gli infladini. Complimenti! Grazie. C'è gente in giro, c'è gente in giro che si esprime, lui si esprime così. A lui piace, a lui piace. Grazie, fate parte di...